non ci sarà nessuna macchia sul mio tavolo sottobicchieri salvagocce super resistente ci sono le nostre foto sui sottobicchieri sono bellissimi ma i melodi è un regalo per la giornata internazionale dell'amicizia giornata internazionale dell'amicizia dovevamo portare qualcosa solo la vostra amicizia Kuromi e i vostri occhi non vedo l'ora di farvi vedere il mio super cartone preferito non si guarderà da solo io l'ho già visto sei volte ma ho saputo che la settima è ancora meglio scusate il ritardo spero ci sia ancora posto ma certo Pom Pom c'è sempre posto per te Pom Pom e per i tacos questi sono nuovissimi e deliziosi con il 40% in più di salsa super salto dell'agenda scintillante oh no mi dispiace tanto ma i melodi non fa niente torno subito super calcio volante pulizia profonda finale ma i melodi ti sei arrabbiata? non sono arrabbiata ebbene sai cosa avrei fatto io? calcio di un milione di pipistrelli volanti non voglio ferire sentimenti di Pom Pom va bene allora faresti meglio dirgli di mangiare i tacos con più attenzione con un piatto ma è mio amico ed è la giornata internazionale dell'amicizia allora sii gentile risoluta allo stesso tempo far sapere alle persone cosa ti dà fastidio vuol dire essere un buon amico ma non li metterà un po' a disagio? niente affatto serve a stabilire dei limiti e gli aiuterà ad essere dei buoni amici a loro volta ehi prova con del bicarbonato vedrai che la macchia andrà via in un baleno ma Bats per favore non toccarmi le orecchie senza chiedermelo va bene ma i melodi scusa ma perché non me l'avevi mai detto prima? perché Kuromi non mi aveva ancora rivelato la mia nuova mossa sii gentile risaluta con i tuoi amici quel taco deve finire deve finire su un piatto ciao amici grazie per aver guardato le avventure di Hello Kitty e i suoi amici iscrivetevi al canale youtube e non dimenticate di attivare le notifiche così da non perdere le nostre prossime avventure a presto